E' iniziata martedì pomeriggio la prima parte di sedute di marzo del Consiglio Provinciale. Il Plenum ha approvato una modifica del regolamento interno che permetterà di procedere con la composizione delle commissioni legislative e designato sei esperti ed esperte del Comitato Provinciale per le Comunicazioni. Accolta la mozione del Tim K, Gruppo Verde e PD affinché la Giunta riferisca regolarmente in aula sulle trattative con il Governo per la modifica dello Statuto. Discusse proposte di Wirt Underland su un tedesco corretto nella pubblica amministrazione, del Gruppo Verde sul Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine per il Clima, del Partito Democratico per sconti ai residenti sull'impianti di risalita e della Südtiroler Freiheit per l'amnistia per gli attivisti südtirolesi. I lavori dedicate alle proposte dell'opposizione proseguono fino a giovedì. Fun frontline di mil aulae dell'amnistia Unいただito dai cleani Un dall'amnistia Per le合otti Scacciento Un sugere gratuito Dei